Allora, se vogliamo affrontare un personaggio curioso, sicuramente sfuggente e soprattutto poco catalogabile come Francis Picabia, non possiamo fare a meno di partire dalla celebre fotografia che vi presento in questa slide e che lo ritrae nel suo studio nel 1911. È un'immagine interessante perché dietro alla sua figura ci sono tutta una serie di dipinti, soprattutto si nota quello che presumibilmente è un passaggio nel suo percorso cubista, un percorso che poi l'avrebbe condotto all'esecuzione di uno dei suoi lavori più celebrati, la danza La Source, che come abbiamo visto avrebbe catalizzato l'attenzione del pubblico americano all'Armory Show del 1913, insieme all'altro dipinto altrettanto e anzi più famoso, il New Descendant Nescalier del suo amico Marcel Duchamp. Però nella stessa immagine noi vediamo anche contemporaneamente altre opere e altri dipinti, soprattutto quel paesaggio che vedete ai piedi dell'artista che richiama i meccanismi formali fauve e poi un piccolo dipinto di figure che invece vedete in alto sopra la sua testa, che è chiaramente di sapore post impressionista e una tela bianca con una serie di tratti rapidi, sintetici, probabilmente un dipinto solo iniziato, però ecco un dipinto dai tratti veramente molto sicuri che sembrano già superare i modi un po' saporiti, un po' tendenti al colore del cubismo orfico che stava caratterizzando il suo lavoro in questa fase, diciamo, della sua parabola artistica. Picabia fu figlio evidentemente di stimoli, di proposte, di possibilità diverse, intanto fu figlio della mescolanza, di più culture, sappiamo che la madre era francese e il padre era spagnolo di origini cubane, ma poi soprattutto, come dicevo, fu figlio di tanti stimoli diversi. Frequentò regolarmente la scuola di arti decorative di Parigi, Cormone fu uno dei suoi maestri, tra i suoi compagni di classe troviamo Braque e Marie Lorenzen, quindi una formazione di tipo tradizionale potremmo dire, ma poi si lasciò influenzare dai barbisognè e poi dall'impressionismo, soprattutto attraverso Sisley e Pissarro. Vediamo, tra l'altro, in questa slide, nell'immagine piccola a destra, una rara immagine di un dipinto giovanile che evidentemente prende le mosse della pittura impressionista, quella piccola marina che vedete appunto sulla destra. Poi si lascerà influenzare dal post-impressionismo di Cézanne, studierà la pittura di colore del gruppo Fauve, e alla fine si affilierà al cubismo della section d'or di Frantisek-Kupka, un cubismo definito appunto orfico, ma poi supererà anche questa vena cromatica orfica e si orienterà prima verso l'astrazione e poi proprio attraverso l'amicizia, la vicinanza con Duchamp verso una pittura completamente nuova, l'espressione di concetti completamente innovativi, e appunto avvicinandosi a Duchamp e soprattutto al suo era di Maid e quindi dando vita a una forma pittorica che si basa su un'ironia, sicuramente abbiamo detto proto-dadaista e poi ancora il legame col dadaismo e successivamente con il surrealismo. Ma nella carriera di Piccabiacchi, fu uno scrittore e un poeta oltre che un pittore, ci sarebbe stato comunque il tempo anche per altre fasi, per esempio per quella del rappello all'ordre, il ritorno all'ordine, un ritorno alla figurazione più tradizionale, per esempio del nudo, il ritratto, e poi ancora alla fine della sua parabola artistica un altro ripensamento complessivo di tutta la sua arte con un conseguente ritorno all'astrettismo. Quindi un artista imprendibile, un artista, uno spirito libero, indeciso, volubile, capriccioso, talmente capriccioso, talmente dedito a tentare ogni strada, a sperimentare ogni possibilità, non solo tecnica, espressiva, ogni proposta, diciamo così, avanguardista, che a noi risulta veramente poco catalogabile, difficilmente etichettabile, quindi difficile da inserire in un catalogo ragionato o per esempio in una cronologia semplificata, figuriamoci in un manuale scolastico. E in effetti sfogliando decine di manuali, che sono i manuali che si utilizzano normalmente nella scuola, noi riusciamo a mettere insieme molto poco di pica bia. Vediamo delle immagini di un periodo specifico, diciamo, della sua carriera, che ci dicono poco, riusciamo a capire veramente a malapena che personaggio è. Io vi ho messo delle fotografie, ho scattato veramente dei trafiletti, che si trovano in tanti di questi manuali, dove troviamo qualche rapida citazione dell'importanza di questo personaggio, che è un'importanza secondaria, viene considerato importante fondamentalmente come spalla di Duchamp, soprattutto ma anche di Man Ray, oppure se ne cita il fatto che fu un editore che diresse, fondò e diresse una rivista d'Ada che chiamò 391, un titolo che evidentemente era nato per gemmazione, potremmo dire, dalla rivista new yorkese 291 di Alfred Stiglitz, perché appunto pica bia conobbe Stiglitz durante l'Armory Show e poi cominciò a lavorare, a collaborare con Stiglitz e da qui appunto mutuò il nome della sua rivista. Oppure, soprattutto, lo troviamo come esecutore di una serie di ritratti meccanici, quelli che noi definiamo i portrait meccanique dei suoi anni statunitensi, del suo primo ritorno tra Parigi e Zurigo, per i quali il grande pubblico effettivamente lo ricorda e lo conosce, che sono quelli che si trovano fondamentalmente appunto nei manuali e che sono quelli che anche noi nel nostro piccolo tratteremo con più attenzione, perché in effetti è sicuramente la fase più interessante, diciamo, della sua produzione. Però non si può isolare soltanto questo pezzettino della produzione di pica bia, altrimenti non si riesce a capire proprio la personalità di questo soggetto. Va ricordato, in effetti, che la critica su pica bia ha idee, diciamo, discordanti. Per esempio Renato Barilli, che è sicuramente un personaggio interessantissimo, ha scritto pagine fondamentali per la comprensione dell'arte del Novecento, tende a limitare, secondo me, un po' ingenerosamente il ruolo di pica bia, come si diceva, a quello di un comprimario, una spalla, una spalla chiassuosa, anche volgare, di un Dechamp sicuramente più dotato, e descrive la carriera di pica bia come una carriera quasi per intero all'ombra di quella dell'altro, dell'altro ovviamente intende Dechamp, e leggo proprio da Barilli, una carriera rivolta a riprenderne i più tipici passaggi e a offrirne delle varianti con un utile e umoroso ruolo di cassa di risonanza e di diffusione esterna. Cioè l'importanza di pica bia starebbe esclusivamente nel fatto di aver offerto una sorta di volgarizzazione delle idee di Dechamp e in questo modo di aver diffuso le idee di Dechamp al grande pubblico. Un personaggio però come Georges Gugnier, che noi abbiamo trovato tante volte parlando di Dada, che era stato un testimone diretto dell'epopea Dada e poi dell'epopea surrealista, ha un'idea completamente diversa di pica bia e sceglie proprio pica bia, cioè non sceglie Dechamp e non sceglie Marray, ma sceglie pica bia come protagonista della sua narrazione su Dada a New York e comincia le sue pagine su Dada a New York proprio con la figura di pica bia e col suo ruolo centrale, riequilibrando in qualche modo il suo rapporto con Dechamp e dicendo, leggo proprio da Georges Gugnier, presto i due uomini sentirono in comune, ognuno sul suo terreno, l'imperiosa necessità di sopprimere i vecchi miti dell'arte nonché il disprezzo degli ambienti pittorici. Quindi in questo caso la sua idea è che non si tratta semplicemente di un imitatore, diciamo di Dechamp, di un volgarizzatore di Dechamp, ma che sia lui che Dechamp hanno un'idea e che la portano avanti in modi diversi, lui magari in maniera più chassosa, l'altro in maniera più delicata e più fine, ma fondamentalmente, diciamo, sono protagonisti dello stesso intento, della stessa volontà di rinnovamento. E Ognè dedica al pittore franco-ispano-cubano diverse pagine e lo identifica come perno fondamentale di questa intera vicenda creativa e la scelta di una figura acuta e informata come quella di Ognè non può non essere significativa. Noi possiamo pensare che la verità in qualche modo possa stare in mezzo tra la visione sicuramente, diciamo, limitante di Renato Barigli e quella probabilmente forse troppo convinta, troppo esaltata sulla figura di Picabia, che è quella invece di Ognè. Però sarà il caso comunque di ricordare che Picabia, una funzione fondamentale, ce l'ha avuta. Va sottolineato che fu proprio lui che era entrato in contatto con il gruppo di Putot nel 1911, un gruppo al quale appartenevano grandi artisti Jacques Villon, Guillaume Apollinaire, Albert Glez, Roger de la Fresnée, Fernand Leger, Jean Messinger e poi anche molti altri. Ecco, lui in mezzo a questi artisti nel 1912 ha l'idea di organizzare l'esposizione dei dissidenti del Salone degli Indipendenti, che era il Salone des Indépendants che aveva rifiutato in quell'anno il nu descendente nelle scalini. Ne abbiamo parlato quando abbiamo parlato di Duchamp. Il rifiuto francese del nudo che scende le scale è quello che convince Duchamp a ritirarsi dalla sezione d'or e quindi ad abbandonare in qualche modo il cubismo nella versione orfica per tentare delle strade nuove, delle strade sempre più estreme sino all'illuminazione del ready-made e all'allineamento poi alla poetica d'Ada. Ecco, probabilmente senza l'autorevolezza, senza la decisione, la spregiudicatezza del giovane Picabia che ha l'idea proprio di esporre le opere rifiutate in qualche modo dal Salone degli Indipendenti, non ci sarebbe stato questo percorso, la possibilità per tanti artisti, non solo di Duchamp, di partecipare all'Armory Show che si sarebbe tenuto appunto nell'anno successivo, nel 1913, poi a partire appunto dall'Armory Show di costruire una via, un percorso completamente nuovo che Dada poi avrebbe condotto attraverso il surrealismo all'arte concettuale degli anni Sessanta. Le opere delle quali stiamo parlando le abbiamo viste più di una volta, le danse alla source alla vostra sinistra, il nudo che scende le scale alla vostra destra, sono proprio i dipinti che faranno scalpore all'Armory Show. Ecco, tra le molte forme espressive sperimentate da Picabia, quindi, si dovrà partire da qui, cioè da queste forme frammentate ma consonanti che corrispondono a un cubismo che tende alla fascinazione del colore orfico e che a Pollinaire definì l'arte di dipingere degli insiemi nuovi con elementi derivati non dalla realtà visiva ma interamente creati dall'artista e dotati da lui di una potente realtà. Che poi sono le immagini, non solo che vedete in questo caso, ma ecco immagini di questo tipo, dipinti di questo tipo, che corrispondono, partono da un'idea cubista tendenzialmente orientata verso il colore, quindi la versione orfica del cubismo, e che però in questo caso ci danno la sensazione di essere insiemi fondamentalmente di ritmo e colori che tendono sempre di più a una specie di astrattismo dinamico e che sembrano voler creare un collegamento diretto col mondo della musica. Ricordiamo per esempio che Picabia fu molto legato ad Eric Satie. Sarà lo stesso Picabia ad affermare a proposito di quegli anni cercavo di fare una pittura capace di vivere delle proprie risorse come la musica. Volevo fare una pittura psicologica, cioè l'idea è quella di realizzare una pittura, da questo punto di vista tendente all'astrazione, che riesce come la musica a parlare esclusivamente con i propri elementi formali. Una identificazione tra la pittura, soprattutto tra il colore e la musica, che a noi non suona sicuramente nuova. Noi abbiamo già visto i precedenti di Kandinsky e di Klee da un lato e anche di Mondrian, se vogliamo, con la sua fascinazione per l'improvvisazione e per il jazz dall'altro. Ecco, la ricerca di Picabia, come vedremo, si concentrerà sempre, soprattutto nel suo periodo d'Ada, come nella sua successiva fase surrealista, in un intento di tipo provocatorio, dissacrante, perfettamente in linea, in questo caso bisogna ammetterlo, con la ricerca di Duchamp degli stessi anni. Quindi una ricerca sempre impegnata nel superare ciò che è scontato. L'idea è quella di portarsi avanti rispetto alla ricerca del momento, perché dice appunto Picabia, il solo modo per essere seguiti è di correre più velocemente degli altri. Per esempio, noi abbiamo un momento tipico che ci fa capire questa volontà di ironizzare, di creare un'arte di rottura, come quando appunto nel 21, in questa sorta di rinnovata polemica post-Dada contro il sistema delle gallerie, contro il sistema del mercato dell'arte, lui presenta al Salon d'Autom un'opera che si chiama Leil Cacodilat, che è quella che vedete in questa slide, che è una tela che era stata realizzata durante una degenza ospedaliera per una malattia all'occhio, ma che fondamentalmente è una tela ricoperta di firme. Si tratta di un dipinto, che non è dipinto, ci sono solo firme di artisti, che circondano un emblematico occhio ammiccante, che è inteso come un'unica figura dipinta fondamentale, perché, ci spiega Lara Vincamasini, se la firma è tutto, per il nuovo concetto di arte intesa come merce, Picabiaschi affeggia il gusto del pubblico con una proliferazione di firme, quindi l'idea proprio anche in questo caso è di provocare il pubblico. Ecco, forse la fase centrale, quella sicuramente più significativa della produzione picabiana, è quella che abbiamo definito delle macchine. Una fase fondamentale che è quella che troviamo in tutti i nostri manuali di storia dell'arte, che si sviluppa negli stessi anni della gestazione del grande vetro di Duchamp. E noi abbiamo visto che all'interno del grande vetro il valore fondamentale è assunto proprio dalla macchina, dalla macchinatrice di cioccolato, che è il primo motore che muove tutto il sistema del dipinto. Quindi l'idea della macchina ha un ruolo fondamentale in tutto il sistema simbolico anche di Duchamp, da questo punto di vista i due artisti lavorano di pari passo. E in Picabia il meccanismo, cioè l'oggetto meccanico, viene presentato in tutta la sua esattezza scientifica, ma poi viene rettificato da iscrizioni che servono a modificare, a chiarire il significato di questo oggetto. È un oggetto che si fa un strumento di una sorta di critica ironica alla fiducia futurista, ma in parte anche cubista, nel progresso. E quindi c'è questa funzione di utilizzare la macchina per in qualche modo irridere la sensazione che le macchine possano portare un progresso, il benessere per gli uomini, che è lo stesso elemento che abbiamo trovato in Duchamp e contemporaneamente, anche in questo caso esattamente come in Duchamp, la macchina diventa un simbolo estremo della pulsione sessuale, il meccanismo erotico che sembra guidare la sorte degli uomini, una allusione, una metafora dei comportamenti umani che sono determinati dai più bassi e basilari meccanismi biologici e psicologici. E questo è il caso della figlia nata senza madre, che vedete in questa slide, dove la figlia per l'appunto è la macchina, figlia dell'uomo soltanto, non ha una madre, è creata soltanto dall'uomo che la crea a sua immagine, ma la priva del pensiero. Quindi è per questo, secondo Fagiolo dell'Arco, che l'uomo ama la sua macchina, perché la macchina gli è sottoposta, perché nella sua perfezione ha comunque bisogno di lui per funzionare. Fagiolo dell'Arco fa un paragone soprattutto con la macchina fotografica, che è un meccanismo perfetto, ma che ha bisogno comunque dell'uomo per scegliere cosa inquadrare, cosa scattare, cosa realizzare, quindi per trasformare un elemento meccanico in una forma d'arte. Ecco, senza l'uomo, senza di lui, la macchina è un essere superbo, ma senza finalità e soprattutto senza volontà, cioè un oggetto inerme che però quando viene unito all'uomo che l'ha creata, ovviamente lo completa e si completa a sua volta. Allora, l'opera di Picabia in questa fase si risolve in una serie di ingranaggi, di meccanismi di precisione, che sono ispirati al disegno tecnico-ingegneristico, perché sono di una perfezione incredibile, ma che via via vengono caricati di tutta una serie di significati, anche scopertamente erotico-sessuali, che tendono ad accostare il movimento esatto e ripetitivo della macchina all'amplesso amoroso, che però è un amplesso sterile che non porta evidentemente a niente e che quindi non prospetta nessuna forma di ottimismo tecnologico, esprime al contrario una forma di scetticismo distaccato nei confronti della maternità. Uno scetticismo che condurrà Picabia a modificare continuamente la sua arte e di conseguenza dal suo linguaggio in una costante involuzione, che lo fa saltare dai meccanismi più radicalmente astratti all'uso di composizioni polimateriche, al recupero poi, alla fine, anche di una tecnica, di una figurazione più tradizionale. Vedete, infatti, che, diciamo, nella fase più tarda della sua carriera, si ritornerà all'evidenza figurativa, al rappello all'ordine, abbiamo detto, al ritorno all'ordine, ma anche alla poliedrica poetica surrealista che è sempre venata di possenti elementi simbolici, sempre orientata verso il dubbio, verso l'enigma da sciogliere, in una inarrestabile e costante tendenza al divenire, qualcosa che si modifica costantemente perché, secondo le stesse parole di Picabia, con le quali ci salutiamo e completiamo questo nostro rapido affondo su un artista così interessante, per avere idee pulite, dice Picabia, bisogna cambiarle come le camicie e ancora bisogna essere nomadi, attraversare le idee come si attraversano i paesi e le città. E questo attraversare costantemente le idee, attraversare, cambiare strumenti espressivi, cambiare tecnica, cambiare forma, cambiare modello, porta Picabia ad essere un artista sicuramente interessante, sicuramente non dotato come Duchamp, ma sicuramente anche un po' sottovalutato, forse perché è troppo difficile, perché è per l'appunto poco inquadrabile, quindi se ne considera soltanto quella porzione di pittura di macchine che costituisce, diciamo, il suo lascito, in qualche modo, al mondo, all'universo Dada.